mi lo avete chiesto in tanti oggi parlerò in questa live di un argomento che sembra che sia un pochino sulla bocca di tutti particolarmente adesso in italia sto parlando di amazon ads e visto che mi avete chiesto in generale più o meno di parlare di questo tema oggi vi dirò alcune coordinate che penso possano essere interessanti se volete iniziare a fare amazon ads perché sono aperti anche in italia adesso da sbagliati mesi ma anche come costruire una strategia che può essere utile per scalare e per aumentare le vendite dei vostri libri quindi questo è una live che spero possa esservi particolarmente utile perché ho davvero ricevuto un bel po di richieste di parlare di questo tema quindi oggi parliamo di amazon ads per autori a che cosa sono come utilizzarli per quel motivo secondo me possono diventare uno strumento di promozione di davvero grande importanza nelle mani di un autore indipendente io ho utilizzato questo strumento nei passati sei mesi e vi darò alcune esperienze che ho avuto io particolarmente e cercherò di dare il più valore possibile in questa live nel parlarvi di qual è stata la mia esperienza una cosa che però voglio precisare che questo non è un tutorial su come creare amazon ads ci sono centinaia di tutorial in rete su come crearli questa live è una descrizione degli elementi più importanti da tenere a mente se volete considerare la possibilità di creare ads che aumentino le vostre possibilità di vendere libri perché questo è importante da sottolineare anche adesso non c'è una ricetta segreta come per tutto per avere successo anche con gli amazon ads non esistono cose del genere io ho provato personalmente che la maggior parte delle volte si tratta di testare cose diverse e farlo farlo in maniera consistente per un periodo finestra che può essere da due settimane a tre settimane quindi è molto difficile che il vostro primo amazon ads abbia qualsiasi tipo di risultato apprezzabile un'altra cosa che è importante da considerare ancora prima che parli di questo tema è che un ads può colpire il pubblico giusto ma questo ad non varrà assolutamente niente se la copertina del vostro libro per esempio non è fatta bene non è a mercato se le vostre le recensioni del vostro libro non sono un point o se la vostra descrizione quindi la descrizione del vostro libro non attira l'interesse del lettore perché tutto quello che potete fare con gli amazon ads è dirigere traffico sulla pagina del vostro prodotto ma per chiudere la vendita to close the sales avete bisogno di un altro numero di elementi di cui non posso starvi a parlare adesso che ho parlato però che ho trattato in molte altre live quindi come fare una buona copertina come essere sicuri che la descrizione del post del proprio libro sia a tema e che catture l'attenzione tutte queste cose devono già essere on top per fare in modo che questi amazon ads abbiano davvero efficacia in questo episodio voglio darvi alcune informazioni generiche su come utilizzare amazon ads e per quale motivo appunto sono uno strumento utile nelle vostre mani voglio anche dirvi che sto in realtà pensando di fare un'altra live dedicata la più in particolare alla mia esperienza personale utilizzando gli amazon ads per i passati sei mesi con una quadrilogia di fantascienza che si chiama la serie dell'ognologo una serie che è iscritta al programma che dp select e vorrei parlarvi dei risultati più specifici che ho avuto con questa serie utilizzando amazon ads non potrò farlo in questa live perché dovrò già trattare svariati dozzine di temi quindi vorrei parlarvi dei risultati tutto sommato apprezzabili che ho avuto ma non sapendo se posso aggiungere davvero valore se soprattutto voi siete interessati a un tipo di condivisione del genere sono esitante a farla perché ovviamente poi si tratta di andare a vedere i dati di spendere tempo ovviamente a organizzare questa live e sono tutte cose che io posso dedicare alla scrittura quindi non sapendo se questa cosa può essere di interesse questo condivisione di dati lascio a voi la scelta se volete che faccia un'altra live su questo tema se ho più di cinque commenti qui su youtube che mi chiedono di fare questo tipo di live quindi in cui spiego in dettaglio che cosa ha funzionato per me vi invito a commentare in questo video perché è l'unico modo in cui possa saperla possa sapere il vostro interesse nel caso quando commentate fatemi sapere che cosa vorreste sapere in particolare di quali dati volete che vi renda partecipi perché ovviamente io ho tenuto in considerazione tutti i dati pagine lette vendite dei libri quanto speso per gli ads ci sono dozzine di cose diverse aiutatemi ad aiutarvi facendomi capire su che cosa siete interessati insomma fatemi sapere di che cosa volete che vi parli e se volete che faccia un altro episodio sui amazon ads e in particolare su quello che ho fatto io e che mi ha aiutato a scalare le vendite dei miei libri se avete delle domande vi ricordo che potete farmene qui live o potete farmene anche nella sezione commenti una volta che avete finita la visualizzazione di questo video e prima di continuare andare al tema del giorno io come sempre vi ricordo che potete iscrivervi alla mia newsletter di autore basta che cliccate il primissimo link nella descrizione di questo video se lo fate come vi dico sempre ricevete due storie gratuite una di fantascienza melodia spaziale e una fantasy a non è una fiata oltre ovviamente ad entrare a far parte del mio circolo di fedelissimi quindi se volete iscrivervi alla mia newsletter cliccate quel primissimo link nella descrizione di questo video ora andiamo subito nel tema del giorno andrea dice immediatamente per me sì questa è una cosa che mi ricorderò grazie grazie ad andrea per avermelo fatto sapere andrea è una delle persone che mi ha convinto a fare questa live quindi come vedete la potenza dei pareri delle persone che mi seguono una cosa importante cerco sempre di dare più valore possibile ma anche di tributare se c'è una persona che ho seguito e che mi ha dato delle dritte importanti per quanto riguarda gli amazon alz ci sono state cinque fonti davvero importanti che mi hanno aiutato a capire un pochino di più come funzionano gli amazon ads non sono un esperto però queste cinque fonti di cui vi parlo adesso sono delle delle risorse che io voglio darvi perché sono convinto possono aiutarvi a capire da zero come funzionano gli amazon ads per autori ma anche come fare a scalarli quindi senza esitazioni andiamo a queste a parlare di queste cinque fonti la prima fonte è una serie di dieci parti di email che sugli amazon ads che è stata pubblicata da rizzi e praticamente questo sito ha un sacco di guide su book marketing facebook ads una cifra di cose insomma e io ho deciso di seguire una serie di dieci mail in cui rizzi spiega le basi cos'è un amazon ads come funzionano oltre a dare tre casi studio importanti che mi hanno fatto capire a che cosa funzionava e non funzionava quindi se siete interessati poi posso anche condividere questa il link per questa per avere questa serie completamente gratuita ovviamente altre due fonti sono stati consigli di nicolas eric e di david gogan che io seguo ovviamente in maniera periodica due autori indipendenti uno irlandese e uno degli stati uniti che mi hanno aiutato a capire che cosa funziona e cosa non fare con gli amazon ads queste sono persone che hanno speso svariate centinaia se non migliaia di euro su fare alzi in generale questi sono esperti di book hub book hub facebook ads e amazon ads più nicolas eric e david gogan david gogan non bastica molto con gli amazon ads ma è un super esperto di book hub e di facebook ads l'altra fonte che davvero mi ha aiutato parecchio e forse è stata la più facile da seguire perché era una serie di video è stato il corso gratuito sui amazon ads di dave che è il famoso fondatore di kindlepreneur e anche quello è un corso che ovviamente vi dovete scrivere la sua email però non c'è molto problema a fare una cosa del genere perché comunque dave da sempre dei consigli interessanti per quanto riguarda book marketing e ovviamente dave cerca di spingere un prodotto che lui ha creato e che se volete può essere utile per creare keywords vi spiegherò che cosa sono keywords con amazon ads ma non dovete comprare questo suo software per fare in modo di accedere a questo suo corso gratuito quindi vi consiglio di andarlo a vedere ancora una volta se siete interessati scrivetemi un commento e vi rispondo con il link per questa risorsa e poi l'ultima fonte è stata dei coaching delle coaching session che io ho fatto con crystal hunt che è un'autrice indipendente canadese che ha provato per svariato tempo amazon ads in diversi mercati e mi ha dato delle dritte importanti che io ho potuto traslare e utilizzare in italia con dei risultati un pochino migliori perché come vi spiegherò secondo il mio punto di vista amazon ads nel momento in cui sto facendo questa live in italia non sembra che vengano usati moltissimo quindi per cui penso io abbia avuto dei risultati un pochino più incoraggianti questo era il cappello del discorso adesso voglio partire e andare direttamente nel cuore della faccenda perché utilizzare amazon ads ci sono tre ragioni fondamentali di cui voglio parlarvi adesso e se siete un pochino scettici non volete utilizzarli o non sapete esattamente per quale motivo potrebbero aiutarvi voglio a darvi queste tre coordinate iniziali che ci crediate o meno persone che spendono il loro tempo su amazon comprano libri e comprono libri in diversi formati se voi utilizzate la piattaforma di amazon per fare inserzioni pubblicitarie voi praticamente raggiungete questi tipi di customers online più facilmente perché prende state pubblicizzando il vostro libro nello stesso posto dove le persone comprano libri oltre ad altre cose la seconda ragione per cui vale la pena utilizzare amazon ad secondo me è che questa piattaforma vi fa pagare non per il numero di impressioni che avete ma per il numero di click quindi le persone devono effettivamente a se stanno facendo scroll della pagina dove fermarsi devono vedere il vostro ads e poi devono cliccarci sopra queste sono delle operazioni che non in tutte le piattaforme di advertisement vengono fatte quindi state pagando per il click non per le impressioni e perché ci tengo a sottolineare l'importanza di questa cosa perché quelle impressioni in realtà sono pubblicità gratuita perché le persone guarderanno il vostro ad ad la vostra inserzione pubblicitaria e non dovrete pagare quindi sarà sempre qualcosa che avranno in fronte di fronte a loro occhi fin quando non cliccano su quel tassello pubblicitario questo vuol dire che vuol dire che anche se avete un click through rate quindi non sono tantissime persone che cliccano specialmente all'inizio va bene questo vi permette di testare senza che vi dissanguiate e questo è particolarmente importante se siete un autore che sta muovendo i primi passi su amazon ads quindi vi permette di fare degli esperimenti diversi senza dover spendere tantissimi soldi questo è quella che io chiamo visibilità è visibilità gratuita oltre ad essere quella che in anglosassolano le chiamiamo brand awareness se il vostro nome siete che ne so uno scrittore di thriller o di misteri e voi avete fatto i compiti a casa avete scelto le giuste keywords e il vostro libro viene messo vicino ai libri di david baldacci questa può essere la prova una prova di fare in modo che i vostri libri vengano guardati dal pubblico giusto se una persona che legge davvero tanti thriller e adora david baldacci e si vede 11 12 20 volte il vostro nome vicino a quello suo perché come vi dirò dopo il modo in cui vengono messi product advertisement su amazon non fa davvero capire se questo è un libro indipendente questo è un libro tradizionale questo è un autore ibrido sono tutti trattati più o meno nello stesso modo questo tipo di esposizione fa in modo che il vostro libro venga visto da un pubblico molto ampio di persone interessate specificamente al vostro genere scrivete fantascienza quello che ho fatto io per esempio è stato associare la mia serie dell'ognologo a uno scrittore che io rispetto molto ma che so persone che hanno letto asimov hanno avuto interesse anche a leggere una serie dell'ognologo quindi ho creato delle keyword sul ciclo della fondazione per esempio su isaac asimov e molte di queste persone hanno cliccato e poi comprato a partire da questo suggerimento che io ho dato io ovviamente si tratta sempre di provare di vedere cose diverse ma non è che c'è solo david baldacci o isaac asimo quello che voglio farvi capire che provando cose diverse a capite nel lungo periodo a che cos'è che funziona che cos'è che le persone cliccano però sempre per arrivare in questo secondo spiegare questo secondo punto voi il bello è che non pagate fino a quando non le persone non clicca terza cosa quello che io ho visto perché ho provato anche amazon scusate facebook ads quello che ho visto con amazon è che voi potete fare un bel po di test spendendo relativamente poco in termini di denaro e io ho fatto diversi test il primo mese mese e mezzo spendendo non più di 1 2 euro al giorno adesso sto spendendo intorno ai 5 dollari al giorno ma mi ha dato una serie di dati in cui ovviamente io sto studiando questi dati qua che mi hanno fatto capire delle tendenze e ho capito queste tendenze spendendo un budget che può essere dai 60 ai 90 euro al mese che è un budget irrisorio davvero piccolo e che mi ha permesso di guadagnare molto di più visto che sono riuscito a fare questi test quindi quello che voglio dirvi il terzo punto è che non solo gli amazon ads sono probabilmente gli ads più facili da creare molto più facile di facebook ads e book up ads perché per esempio non dovete neanche creare la grafica l'unica cosa che possono vedere di grafico le persone con amazon ads e la vostra copertina ma questi sono degli ads che sono stati provati da autori fiction e non fiction e è stato provato che funzionano per entrambi a questi generi letterari è importante questa è una cosa che davvero voglio che sia importante che che capiate se non fate test è molto difficile che si muoviate copia dei vostri libri e da quel che ho potuto fare io e vedere io amazon ads vi permette di fare un bel po di test specialmente all'inizio di racimolare un bel po di dati di capire quali siano le cose che funzionano senza spendere centinaia o migliaia di euro quindi questi sono i tre motivi per cui utilizzare amazon ads sto vedendo la lista di cose di cui voglio parlarvi e è davvero lunga quindi cercherò di andare un pochino più velocemente come vi ho detto se siete più interessati che vada più nello specifico in questo tema voglio vedere i vostri commenti però per quanto guarda riguarda un discorso di trasparenza e questa è una cosa che io cerco davvero di fare più possibile ci sono anche degli svantaggi ad utilizzare amazon ads e ve ne voglio parlare almeno di uno di questi svantaggi amazon ads è una piattaforma relativamente nuova di advertisement e comparata con facebook ads per esempio è molto caotica e non sempre ha molto senso e il modo in cui fanno reporting è non molto ben organizzato se con facebook ads voi avete un bel po di statistiche vedete esattamente a che cosa stanno cliccando chi lo sta cliccando come lo sta cliccando quasi il momento della giornata in cui lo stanno cliccando con amazon ads non riuscite davvero a capire tantissimo il modo in cui se entrate nella vostra dashboard le cose che potete vedere sono relativamente ristrette questo sospetto è perché non il team di amazon non ci sta mettendo davvero troppo al cuore almeno in questo momento e almeno nella piattaforma italiana perché questa quello che ho utilizzato io fino davvero fino a questo momento però sappiate che è un pochino disorganizzata e almeno io ho speso un po di tempo per capire come funzionasse questa è una cosa importante che voi dovete sapere la seconda cosa importante da considerare per quanto riguarda gli amazon ads è che ci sono due modi per fare pubblicità su amazon uno viene chiamato sponsored product e l'altro viene chiamato lock screen non parlerò del lock screen oggi con voi perché è una cosa che almeno sulla piattaforma italiana non ho visto l'unica opzione che avete voi è quello dello sponsor product almeno l'ultima volta che ho provato a fare un ads però vi spiego molto velocemente qual è cos'è un ads via lock screen praticamente è un dove vengono visualizzati gli ads se avete comprato un tipo di ads di questo genere lock screen i lock screen ads vengono mostrati direttamente dai lettori che stanno leggendo su un dispositivo kindle quindi nell'home screen o se c'è uno screen saver vengono visualizzati lì ora da quel che ho sentito io io non l'ho mai utilizzati non funziona molto bene per quanto riguarda a tradurre le vostre sezioni pubblicitarie in vendite questo lock screen ads non ho sentito davvero ottime cose quindi e non l'ho neanche provato quindi non saprei esattamente cosa dirvi vi posso parlare un pochino di più della seconda opzione che è quella degli sponsored product ads dove vengono visualizzati queste sezioni pubblicitarie quando le persone vanno su amazon e stanno cercando qualcosa in nel search result listing vengono visualizzati i vostri ads e nell'area sotto io so bot anche persone che hanno comprato questo hanno comprato anche nella sezione altri libri e questa è una cosa che viene visualizzata nella pagina dei prodotti dei libri quindi può essere il vostro libro ma può essere anche un libro di david baldacci di isa casimo di qualsiasi altro autore famoso quindi non interessa moltissimo ad amazon chi siete che cosa stare facendo se la keywords che avete utilizzato in qualche modo abbraccia uno di questi autori o dei loro libri verrà mostrata anche nella pagina dei prodotti dei loro libri a questo punto magari ci saranno delle persone che sono interessate a capire come fare passo passo un amazon ads questa non è la live in cui vi spiego come vi dicevo con un tutorial come creare da zero un amazon ads però posso dirvi in poche parole in che cosa consiste questo processo ci sono cinque passi che dovete fare quando voi state nella vostra dashboard collegata al vostro account e praticamente che cosa dovete fare per creare un amazon ads la prima cosa è dovete selezionare il libro il vostro libro che volete pubblicizzare dovete dare un nome alla vostra campagna pubblicitaria dovete decidere se fare in modo che sia automatica vuol dire che amazon praticamente farà tutto per voi cosa che vi sconsiglio di fare però potete provare potete provare sicuramente o manuale in cui voi effettivamente farete tutti i passi di cui vi parlo adesso dovete capire qual è il vostro budget e settarlo dovete capire qual è il vostro targeting quindi con le keywords dovete fare in modo di inserire un certo numero di keywords dentro l'area apposita di questa sezione e ancora una volta vi parlerò di queste keywords che sono una delle cose forse più importanti per le persone che vogliono fare amazon ads efficacemente e il quinto passo è dovete selezionare quello che noi chiamiamo in anglosassolandia bid cioè quanto siete disposti a pagare per fare in modo che amazon faccia vedere il vostro ads sulla piattaforma sul loro store più alto il bid più amazon è propensa a far vedere il vostro ad quindi sono tutte cose molto basilari su cose su cui non mi dilungherò se siete interessati se avete domande potete farmi nei commenti assolutamente ma quello che io sono interessato adesso oggi a parlarvi è come fare in modo di costumizzare i vostri le vostre inserzioni pubblicitarie su amazon e questa è una cosa bella e brutta degli amazon alz perché bella e brutta perché a differenza di facebook o di buca alz dove potete mettere dalla grafica che create voi magari con canva con amazon alz davvero potete fare poco per personalizzare il vostro la vostra inserzione pubblicitaria tutto quello che potete fare la vostra immagine che è la immagine della vostra copertina e questo differenzia molto amazon alz da twitter alz facebook alz pinterest alz amazon non vi permette di costumizzare la vostra immagine invece quello che vi permette di fare è di utilizzare sempre comunque il cover design la copertina del vostro libro quindi sarà quello quella copertina che i customers i clienti vedranno e la seconda cosa che potete fare per costumizzare il vostro annuncio pubblicitario è quella che noi chiamiamo la copy quindi la descrizione che dovrebbe fare in modo di interessare le persone e farle cliccare su quel benedetto annuncio pubblicitario c'è anche un'opzione in cui voi non dovete necessariamente fare una copy quindi questa descrizione io per esempio con la mia serie dell'ognologo non ho scritto assolutamente niente quindi le persone che vanno su amazon guardano il mio ad vedono la copertina della della mia serie di fantascienza vedono il numero di recensioni la media delle recensioni e il titolo del libro basta e il mio nome questo vedono non c'è nessuna descrizione in anglosassolandia io vi consiglierei di fare una copy perché lì la competition è molto più fierce molto più serrata quindi dovete fare in modo che il vostro prodotto risalti meglio quindi la copy è sicuramente una delle armi a vostra disposizione un'altra cosa importante per quanto riguarda gli ads è come monitorarli come fare in modo per capire se stanno funzionando o non stanno funzionando ciao mario una delle elementi dei parametri che vengono discorsi di più è una cosa che viene chiamata in italiano ve la dico adesso ACOS e adesso vi dico in inglese che cosa vuol dire in ACOS si intende advertising cost of sale che cos'è praticamente è una ratio una misura un metro in cui amazon vi fa vedere attraverso questa metrica la misura dell'ammontare di quanto voi avete speso per un certo tipo di ads su una certa campagna pubblicitaria relativa alle vendite che avete guadagnato direttamente da questa campagna dalla campagna stessa e vi faccio un esempio per tradurre quello di cui vi ho appena parlato diciamo che il vostro ACOS è minore del 100 per cento questo vuol dire che voi state vendendo di più di quanto state spendendo quindi voi pensate che stai facendo soldi giusto no non necessariamente perché quando amazon traduce nella vostra dashboard una vendita vi faccio un esempio il mio cofanetto dell'ognolo costa 6 euro e 99 ci sono quattro libri dentro ok amazon ci fa vedere che noi guadagniamo 6 euro e 99 qualcosa di lì prendi il prezzo pieno del mio cofanetto quando invece quello che guadagno non è affatto 6 euro e 99 centesimi è più intorno ai 4 euro e qualcosa questo è perché le royalties sono 4 euro e qualcosa mentre il prezzo del mio prodotto è 6 euro e 99 quindi sembrerebbe che sto guadagnando quei 6 euro e 99 in realtà dovete fare tutti i vostri conti della serva e capire quanto in realtà state facendo di royalties quindi quello che amazon fa sta coccolando il retail price del vostro libro non le royalties che vi vanno a finire nel vostro conto in banca questa è una cosa molto importante che nessuno mi ha detto all'inizio e che ho dovuto capire studiando praticamente per esempio se il vostro libro costa dai 2 dollari 99 ai 9 dollari 99 voi state facendo il 70% con le royalties di amazon quindi state facendo il 70% da quella vendita quindi dovete guardare il vostro ACOS e se state facendo un ACOS minore di 70% allora state effettivamente guadagnando una cosa importante da considerare questa è un'altra cosa che non mi hanno detto e che vorrei mi avessero detto un'altra cosa brutta della piattaforma di amazon è che può occorrere fino a 7 giorni ad amazon per registrare una vendita e attribuirla alla vostra dashboard se state facendo una campagna pubblicitaria assolutamente non eliminatela prima di almeno una decina di giorni io direi due settimane perché i risultati veri possono possono impiegare diversi giorni per arrivare quindi se state vedendo che avete iniziato una campagna pubblicitaria non avete nessuna vendita o zero vendita aspettate prima di chiuderla almeno 10, 12, 14 giorni siete pazienti è molto ma molto importante un'altra cosa di cui ho parlato brevemente ma che è importante che voi capiate su amazon ads le impressions are free impressioni del vostro libro sono gratuite non so esattamente come direlo in italiano quindi cercherò di dirlo nel modo più semplice possibile una impressione è praticamente il numero di volte in cui una persona che sta facendo browsing sul negozio amazon vede il vostro libro quindi gli appare sullo screen questa è un'impression voi non pagate per quella cosa lì voi pagate soltanto quando quella persona si ferma magari legge la vostra inserzione pubblicitaria e la clicca fine della storia quello è il momento in cui amazon prende i soldi dalla vostra carta di credito perché è importante che ribadisca questa cosa perché quando una persona vede quella veredetta impression 10, 15, 150 volte può rappresentare una social proof si dice molte volte che prima che una persona faccia una mossa per quanto riguarda vedere un film o comprare un libro quel libro o quel film devono essere gli stati suggeriti un numero svariato di volte e posso assicurarvi questa è una cosa vera perché magari la prima volta quella persona non comprerà il vostro prodotto ma la 77esima volta comincerà a chiedersi ma chi è questa persona che amazon mi fa vedere ogni singola volta quello è un capitale mobilizzato perché quella stessa persona può diventare curiosa su di voi e può andare su vostro sito internet o può incontrarvi sui social media o può andare a vedere il vostro account amazon il vostro magari author central se siete negli Stati Uniti e vedere tutti i libri che avete scritto questo è impagabile perché è praticamente pubblicità gratuita che voi state indirizzando al pubblico giusto di persone perché se avete fatto i compiti a casa avete utilizzato le giuste keywords quindi quell'annuncio pubblicitario sta venendo mostrato alle persone che contano le persone che potenzialmente possono essere interessate ai vostri libri e che possono comprare quindi impressions are free e questo è importantissimo per quanto riguarda il discorso che in anglosassolandia facciamo di brand building che cos'è brand building? è praticamente il modo in cui i lettori vedono vi vedono voi come autori in tutto lo spettro con persone sui social media nel vostro sito internet con la nostra newsletter io ho notato un incremento del traffico del mio sito sicuramente per quanto riguarda persone che vengono a visitare la mia pagina di autore ma anche i libri nel mio sito internet quindi per esempio della serie dell'ognolgo c'è stato da quanto ho iniziato a fare Amazon Ads un incremento del traffico nel mio sito internet nella mia pagina Facebook quindi questa è una cosa che non dovete sottovalutare è molto importante ha quelle impressioni gratuite una cosa che è importante si fa molto baccano per quanto riguarda l'ACOS quindi questa metrica di cui vi ho parlato però ci sono delle cose che l'ACOS non controlla e che sono molto importanti che voi sappiate una delle cose che non si vedono dall'ACOS e che solo recentemente Amazon ha introdotto come metrica nella sua dashboard sono le Kindle Unlimited Page Reads se voi state facendo avete scritto il vostro libro su Amazon Kindle Select quindi le persone se scaricano il vostro libro e sono iscritte a Kindle Unlimited e cominciano a leggere il vostro libro voi venite pagati per le pagine lette fino a qualche giorno fa non c'era proprio una metrica adesso potete vederlo con una metrica apposita ma non basatevi sull'ACOS per quanto riguarda le pagine lette o i proventi di quelle pagine lette l'ACOS si riferisce soltanto ai libri che voi vendete e ai libri di un certo formato che voi vendete quindi non a tutti quanti infatti gli audiobooks non vengono contati nelle sales dell'ACOS su questa metrica voi non capirete mai se il vostro ranking è aumentato questa è una cosa che specialmente è vera se voi siete iscritti a Kindle Select perché io personalmente ho avuto dozzine e dozzine di persone che scaricavano gratuitamente il mio libro il mio libro o la mia serie dell'ognologo e ovviamente io non avevo nella mia dashboard delle sales niente che mi dicesse oggi hai avuto tre vendite normali e non lo so dieci vendite provenienti da persone che sono iscritte a Kindle al limite questa è una cosa che non potete tracciare davvero ci sono dei modi per tracciarle ma non ci sono dei modi per tracciarli dalla dashboard di Amazon e l'altra cosa la quarta cosa importante che questa metrica di cui si parla tanto l'ACOS non traccia e che secondo me è molto importante sono i potenziali iscritti a una newsletter e voi vi chiederete che cosa ha questo a che fare con quanto sto guadagnando o quante vendite sto facendo nel mio libro ha moltissimo a che fare perché se voi avete fatto i compiti a casa e come vi ho detto più volte in una delle mie live avete creato una back and front matter on point nel vostro libro quindi avete creato un messaggio iniziale e finale a persone che stanno leggendo i vostri libri che li indirizzano la vostra newsletter l'asset forse è più importante che avete come autori dopo ovviamente la qualità dei vostri libri allora voi noterete anche un incremento di iscritti alla vostra newsletter che ovviamente non va a finire nel conteggio dell'ACOS queste sono quattro variabili che possono fare o disfare la vostra carriera di autore indipendente nel lungo periodo e che non andrete a vedere nell'ACOS quindi tenetene presente tenetene conto e adesso arriviamo al tema forse più importante quando si tratta di parlare di Amazon Ads come fare a trovare le benedette keywords per fare in modo di accalappiare diciamo così i potenziali lettori del vostro libro ora io vi darò dei consigli che ho visto funzionare per me e vi darò delle cose che alcuni degli esperti maggiori che hanno utilizzato Amazon consigliano di fare una volta che vi dico questa cosa qui voi prendete tutto quanto quello che viene detto come non come oro colato ma come un certo tipo di strumento che voi potete implementare e provare ma non come una ricetta per il successo assolutamente l'unica ricetta per aumentare le vostre potenzialità di successo è quello di testare testare e testare tantissimo fino a dare una testata sul muro della vostra casa è così importante testare con gli Amazon Ads non c'è un altro modo per fare in modo di avere secondo me successo con questa strategia quindi parliamo di keywords adesso che cosa intendo per keywords praticamente le keywords sono una serie di frasi o parole in cui voi mettete quando state creando il vostro ad la vostra campagna pubblicitaria per fare in modo di dire ad Amazon e vorrei che tu mostrassi il mio ad la mia inserzione pubblicitaria alle persone che magari cliccano o digitano sulla tastiera nella search engine fantascienza ebook o Nebula o Isaac Asimov o Fondazione oppure Deserto Rosso o facciamo un po' di pubblicità a mia collega indipendente Rita Carla Francesca Monticelli sono tutte keywords queste possono essere nomi di persone nomi di serie libri premi letterari può essere qualsiasi cosa diversa e questo è il problema perché la prima volta che voi fate una campagna pubblicitaria non avete assolutamente idea di quale keywords funzionerà zero anche se pensate che voi avete un'idea posso assicurarvi non è quella giusta la maggior parte delle volte almeno io andando a vedere la dashboard perché Amazon ti fa vedere anche quali sono le keyword più cliccate mai mi sarei aspettato che la keyword più cliccata fosse per esempio una delle keywords più cliccate per quanto mi riguarda fa riferimento a un editore tradizionale italiano che vende fantasy e fantascienza io che sono un autore indipendente se fossi stato di visione diciamo così se avessi detto no io non utilizzo quel tipo di keyword perché non mi piacciono per esempio gli editori tradizionali sono autore indipendente voglio essere indipendente utilizzo soltanto i nomi di autori indipendenti di fantascienza serve stata una ricetta per il disastro non fate questo errore abbiate la mentalità più aperta possibili e questo non per dire che io non leggo prodotti tradizionali anzi leggo un bel po' questo è un avvertimento per farvi capire che la vostra prima compagna dovrebbe avere un certo numero di keywords anche abbastanza elevato io vi consiglio almeno 200 minimo la mia campagna ne aveva intorno a 300 o 350 per quale motivo è importante avere questo spettro chiamatelo un pochino l'approccio shotgun l'approccio fucile a canna mozza quando utilizzate un fucile a canna mozza non lo state facendo non state facendo un tipo di scelta del genere per colpire una persona a 200 metri di distanza perché con lo shotgun non la colpite però quello che colpite se salite in una cucina colpite tutto o se avete 4 o 5 persone intorno a voi tutte quante sono morte praticamente perché proprio il fucile a canna mozza non ha praticamente come un cecchino la precisione come elemento predominante semplicemente quello che vuole fare è una strage quello che volete fare voi scusatemi la parola ma è fare una strage di keywords nel senso testare più keywords possibili e vedere qual è lì sono le keywords che funzionano e non lo capirete questo prima di svariate quello che dico io è importante settimane la cosa più importante per quanto riguarda amazon è che è difficile che amazon spenda tutti i soldi che voi volete che amazon spenda che cosa vuol dire questa cosa che sembra un ragionamento molto controintuitivo andate su amazon create un facebook scusatemi andate su facebook e create un facebook ads facebook non ha assolutamente problemi a prosciugare qualsiasi sia il vostro budget io conosco persone che quando si tratta di fare una campagna pubblicitaria su amazon spendono intorno non vi dico la cifra svariate centinaia di euro al giorno svariate centinaia di dollari al giorno e non hanno assolutamente problemi a spendere questi soldi perché facebook farà tutto quello che può per far vedere l'annuncio pubblicitario al maggior numero di persone possibile tante quante sono necessarie per prosciugare letteralmente il budget di questa persona amazon ads completamente diverso a volte potete cercare di tirargli addosso soldi ma amazon non vi spenderà tutti quei soldi per esempio io in questo momento ho il budget di 3 euro per 3 euro al giorno quindi intorno ai 5 dollari al giorno per la mia cofanetto della serie donognologo e è difficile non li spenda davvero tutti i 3 euro le spende più facilmente che negli Stati Uniti questo è sicuro però solitamente è un euro e mezzo 2 euro 2 euro e mezzo molte volte è 50 centesimi è più difficile che questa piattaforma si prenda i vostri soldi e perché vi dico questa cosa qui perché è importante che voi non ve la fate prendere non ve la fate prendere a male specialmente se venite da una piattaforma di advertisement come facebook funziona in modo completamente diverso amazon ora ci sono dei modi per farli spendere quei soldi se volete assolutamente sì e ve ne parlerò dopo ma quello che voi dovete capire adesso è che una volta che avete capito quali sono le keyword che vengono cliccate che ovviamente vi danno buoni risultati quindi che si traducono in vendite non semplicemente che vengono cliccate scusatemi che vengono cliccate e che vi fanno scaricare dei libri le persone quindi si comprano i vostri libri una volta che le avete trovate queste keyword come fare a trovarne di più questo è il problema e questa è una delle prime cose che spiegano le persone che ho seguito ci sono svariati modi svariate dozzine di modi io oggi ve ne parlerò di cinque perché voglio fare di questa live lunga cinque ore ancora una volta se avete domande riguardo questo fatemele nei commenti o nella live chat uno dei modi più importanti secondo me per trovare keywords è andare nella pagina Amazon del vostro libro e vedere quali sono gli altri libri che le persone che hanno comprato il vostro libro o che hanno visualizzato il vostro libro comprano o visualizzano quello che ho fatto io è stato andare nella pagina del prodotto dei miei libri della serie dell'ognologo e fare un taglio e incolla del nome di tutti gli autori che avevo negli also bot maggior parte dei quali erano autori di fantascienza e fantascienza tecnologica e copiare e incorlarli ancora una volta per farvi un esempio una delle mie colleghe indipendenti Rita Carla Francesca Monticelli aveva la sua serie di deserto rosso molte persone che avevano comprato la sua serie avevano comprato anche la mia e sono convinto anche viceversa quindi è stato una delle sue keyword in realtà due è stata una keyword deserto rosso e l'altro keyword il nome della suddetta questi sono gli also bot e specialmente se il vostro libro è stato lì da svariati mesi magari anni e avete venduto svariate copie il vostro also bot sarà svariate pagine quindi preparatevi ad avere un excel spreadsheet o google spreadsheet e a sistematizzare queste benedette keywords io ho fatto per esempio nome di autori nome di serie nome di libri quindi non vi posso spiegare come fare organizzare le keywords questo ci sarebbe un altro episodio da farlo però è importante che voi capiate che gli also bot sono una fonte molto importante di keyword harvesting come li chiamo io di racimolare un bel po' di keywords di valore un'altra cosa che potete fare che è molto importante andate negli also bot dei autori che sono simili a voi quindi questa è una cosa importante io non mi fermo alla mia pagina del mio prodotto io vado per esempio anche nella pagina prodotto di rita carla francesca monticelli e che cosa faccio copio e incollo tutte le persone che sono anche nei suoi also bot ovviamente nella sua serie di fantascienza deserto rosso non vado a vedere i suoi libri thriller che quello non andrebbe bene questo è importante quindi quanti autori indipendenti ma anche tradizionali che scrivono fantascienza o fantascienza tecnologica svariati quindi ho fatto la stessa operazione anche per loro un altro strumento che vi ho utilizzato questo però se non sbaglio funziona solo nella Amazon US almeno che io sappia potrei sbagliarmi si chiama Yaseed è una specie di mappa concettuale di prodotti e vi fa vedere con una bella mappa grafica quali sono i libri che sono collegati al vostro libro è difficile da spiegare dovreste andare a vederlo voi però graficamente vi fa vedere il vostro libro rappresenta il centro di una mappa e ci sono dei vari collegamenti a altre serie di fantascienza altri box set altri altri prodotti collegati al vostro libro questo è un modo grafico interessante per vedere e popolare le vostre keywords quindi vi consiglio di andarlo a vedere quarto modo in cui potete radunare keywords è andare su Goodreads e andare nella listopia praticamente che cos'è questo strumento Goodreads è un social media per autori e lettori specialmente listopie sono praticamente delle liste in cui i lettori di questa piattaforma possono votare i loro libri preferiti quindi per esempio ci sono listopie per la migliore novella young adult del 2017 o per il migliore libro fantasy del ventunesimo secolo o cose che sono addirittura più di nicchia e questo è dove c'è l'oro colato per esempio politica britannica e politici britannici del diciottesimo secolo che ti posso dire cose proprio di nicchia assoluta vi consiglio di andare a vedere queste listopie e di copia incollare un'altra volta tutti i libri autori che sono pertinenti a voi come autori indipendenti quinta risorsa che vi consiglio però questa risorsa funziona dall'ultima volta che ho controllato soltanto nel mercato americano degli stati uniti quindi del regno unito e della germania e questa è una risorsa a pagamento tutte le altre sono risorse gratuiti che vi ho dato e ve la dico soltanto perché io apprezzo questa persona e ho seguito il suo corso di amazon ads e mi è stato utile è una risorsa di Dave Chesson il gentiluomo di cui vi parlavo il curatore di kindlepreneur lui ha creato una risorsa che si chiama publisher rocket e praticamente è un software che vi permette di fare tutte queste cose qui di copia e colla di andare a cercare ve lo fa il software vi fa risparmiare svariate ore decine probabilmente di ore la sto utilizzando io? no perché voglio imparare intanto voglio farlo manualmente per capire imparare quali sono i miei competitors ma anche perché costa abbastanza secondo me e perché secondo me ancora una volta ci sono modi molto più lenti di avere publisher rocket sicuramente che è una buona risorsa non ne ho dubbio anche se non l'ho mai utilizzata ho altre persone che l'hanno utilizzata e mi hanno detto buone cose però in questa fase voglio imparare a fare a cercare cacciare se volete come un cacciatore le mie keyword personalmente seconda cosa importante per quanto riguarda le keywords dovete fare tutto quello che potete per focalizzarvi nelle keyword che stanno funzionando e uccidere turn off spegnere le campagne che non stanno funzionando quindi se voi avete una campagna pubblicitaria in cui le persone ci sono un bel po' di impressions e avete delle persone che stanno cliccando ripetutamente quella compagna ma non avete delle vendite avete un problema con quella campagna lì e dovete o cambiare le keywords o cambiare qualche materiale per esempio la vostra copertina o la descrizione del vostro o del vostro prodotto è molto importante che non lasciate una campagna a prosciugarvi di soldi interrompetela non subito come vi ho detto aspettate almeno un paio di settimane molto importante per quanto riguarda gli amazon ads ma sicuramente interrompetela se non vi sta dando dei risultati oppure iniziate un'altra ovviamente oppure cambiate questa campagna è quello che ho fatto io io non ho fatto una campagna sola non ho fatto almeno una mezza dozzina e quello che facevo io è imparare prendere tutto quello di buono che mi veniva da una campagna e trasferirla in una campagna nuova e aumentare i miei soldi su questa campagna qui per aumentare i click ma anche e questa è la cosa più importante le vendite perché le vendite è il metodo di paragoni in cui voi capite sia una campagna sta funzionando o no non sono le impressioni non sono i click sono le vendite questa è una cosa importante c'è una cosa che è importante un'altra cosa importante ci sono talmente tante cose importanti che non so neanche dove finire però se avete fatto i compiti a casa a questo punto dovreste avere questo vostro excel spreadsheet che è pieno di keywords dovete fare in modo di testarle creando delle campagne pubblicitarie che abbiano queste keywords ci sono alcuni modi per farlo ci sono alcune vie per farlo in modo strategico prima cosa dovete creare una campagna manuale quindi non dare ad Amazon la possibilità di fare una campagna bot come la chiamo io una campagna automatica io non ho mai fatto una campagna automatica che vuol dire che Amazon praticamente fa tutte le keywords e tutta la ricerca per voi io non ho niente in contrario utilizzando questo approccio però non l'ho mai utilizzato perché voglio avere il controllo della mia campagna se sbaglio voglio che sia il mio sbaglio voglio imparare quindi potrebbe essere noi in vostro caso però io quello che ho fatto è creare una campagna uno sponsor product non una lock screen manuale ho messo tutte le keywords che avevo nello spreadsheet nella prima campagna pubblicitaria quindi stiamo parlando di più di 300 che non è neanche un numero alto considerate questo se non sbaglio potete inserire fino a un migliaio di keywords nella vostra campagna pubblicitaria se non erro quindi 200 300 sono poche e quell'altra cosa che ho fatto io è e questo è molto importante dovete fare in modo di settare un bid e vi ho spiegato che cos'è il bid è un budget relativamente alto quindi direi 5-10 dollari al giorno relativamente perché ci sono persone che mettono 50 dollari al giorno però per fare in modo che Amazon effettivamente prenda questo annuncio pubblicitario e lo metta in faccia alle persone che leggono se stai scrivendo thriller che leggono fantascienza se stai scrivendo fantascienza se il vostro bid è troppo basso il vostro ads non verrà mostrato per le keywords che voi volete utilizzare e c'è una cosa interessante Amazon vi fa addirittura vedere quanto in teoria costa un certo tipo di keywords ci sono delle keywords che sono molto costose e delle altre keywords che sono molto cheap vi faccio un esempio se non sbaglio l'ultima volta che ho visto una keyword il deserto rosso era tipo 14 centesimi 11 centesimi invece Isaac Asimov o la fondazione erano tipo 20 centesimi o 24 25 se il vostro bid è troppo basso quindi voi dite ad Amazon ok il massimo che puoi spendere è 7 8 centesimi 11 centesimi per keywords il vostro ads è molto più difficile che sarà mostrato perché ci sono tipi come me che hanno un bid che è il doppio di quello o molto più alto il bello è che ancora una volta Amazon non vi fa pagare se la persona non clicca su quell'annuncio obbiscitario quindi quello che voi stai cercando di fare in questo momento è generare impressions e non generare impressions e impressioni se non avete un bid abbastanza alto ora questo è specialmente vero nei Stati Uniti dove io mi sono barcamenato un pochino e poi ho lasciato la barca perché non avevo una serie e stavo veramente combattendo contro i giganti però quando sono andato in Italia con la mia campagna pubblicitaria ho cominciato a mettere bids di oltre 20 centesimi il mio annuncio pubblicitario ha cominciato ad essere mostrato a centinaia di migliaia di persone adesso le impression che ho sono sbagliate e questo sarebbe stato impossibile se non avessi settato questo mio budget abbastanza alto che non è neanche alto se ci considerate è alto per le persone che stanno utilizzando la piattaforma in Italia questo è importante quindi bid cercare di farlo relativamente alto dopo una settimana o due andate nella vostra dashboard e vede quali sono le keywords che stanno generando più risultati quali sono le keywords che sono cliccate di più ma soprattutto che sono che stanno generando sales perché questa è una cosa bella voi vedrete qual è la keyword che sta generando una sales per esempio io ho keywords alcune hanno girato due o tre altre hanno girato una dozzina dipende prendete queste keywords che stanno generando vendita e fate una campagna nuova dove ci siano tutte queste keywords che stanno funzionando e stoppate fermate tutte le altre test campaign o l'altra test campaign di cui vi parlavo prima quella con 350 500 keywords questo è un modo per fare narrowing in down è un modo che personalmente per me ha funzionato non è una cosa che sto parlando per sentire o dire ha funzionato per me mi chiami trani quindi vi posso dire ha funzionato facendo questi test prendendo quali erano le keyword che funzionavano e poi mettendoli in una campagna completamente nuova e questa campagna adesso sta andando e dandomi dei risultati abbastanza buoni da svariato tempo voglio parlare adesso di una cosa importante se non ci sono delle domande riguardanti Amazon Ads c'è Whatever John che sta dicendo sta dando dei inside davvero preziosi io vi consiglio se avete delle questioni e delle domande da farle fateli adesso perché io sono qui ora la prossima volta che mi vedete è una settimana da adesso quindi se avete delle domande prima che finisca questa live potete farmene io ho un'altra 10-15 minuti a disposizione quindi prima di finire questa live quindi non abbiate paura tutti questi suggerimenti sono completamente gratuiti e ci sono insomma poche persone che io abbia visto stanno condividendo la loro esperienza con Amazon Ads quindi se volete farmi una domanda privata adesso questo è il momento di farmela voglio parlarvi di una strategia che ha utilizzato Mark Dawson per fare in modo di scalare gli Amazon Ads per le poche persone che non lo conoscessero Mark Dawson è una figura abbastanza prominente nel panorama indipendente indipendente di autori indipendenti in quanto ho creato svariati corsi su Facebook Ads anche Amazon Ads in realtà i corsi suoi costano anche parecchio però io non ho mai dato uno però so di persone molte persone che hanno utilizzato e le consigliano ora questo suo suggerimento è un suggerimento che ho preso da una delle email che mi si è mandata da Rizzi in una di quelle serie di Amazon su Amazon Ads vi ho detto all'inizio che c'è un problema con gli Amazon Ads e il problema è che Amazon molto difficilmente vi prenderà tutti i soldi per esempio una vostra campagna settate il vostro limite a 10 dollari al giorno per quella campagna molto difficile che Amazon spenderà tutti i 10 dollari vi ho dato il mio esempio io spendo 3 euro al giorno che è niente per il mio box set è difficile che Amazon mi prenda più di 2 euro e mezzo succede ma è difficile la media è tipo 1 euro e mezzo 2 euro c'è un modo per fare in modo che Amazon prenda tutti quei 3 euro e se avete 5 euro che vi prenda 5 euro anche di più o almeno che abbiate una possibilità maggiore che Amazon vi prenda i vostri soldi perché non c'è niente di certo e questa è una strategia di Mark Dawson che lui chiama a scalare Amazon Ads uno ad uno quindi lui le chiama invece di fare 100 Amazon Ads ognuno con un scusatemi invece di fare 10 Amazon Ads ognuno che gli dà la possibilità di spendere 10 dollari ognuno fate 100 Amazon campagne di Amazon Ads a un dollaro ognuna per quale motivo questo è importante fare un centinaio di campagne per un dollaro invece di 10 campagne a 10 dollari se state facendo uno sponsor product ads e se questi ads stanno cominciando a generare sales generare delle vendite allora probabilmente voi siete in una posizione in cui volete scalare questi ads volete spendere di più quindi quello che fate naturalmente dovrebbe essere incrementare il budget di una certa campagna che sta andando bene però Amazon non li prende quei soldi molto difficilmente le prende Amazon è una piattaforma che è notoria per prendere meno soldi di quanti gli autori in realtà vorrebbero dargli perché il motivo per questo è facile perché loro stanno vi fanno pagare per click e non per impressione e vi ho detto quello è una cosa positiva ma anche negativa purtroppo la cosa negativa è se volete scalare ingrandire queste campagne per Amazon Ads non potete farlo facilmente però qual è la soluzione secondo Mark Dawson invece di aumentare il vostro budget per una campagna da 2 dollari a 5 dollari 10 dollari aumentate il numero di campagne è molto più facile che Amazon spenda il 100% o intorno a quel 100% del vostro daily budget del vostro budget giornaliero se il vostro budget è più piccolo di quella campagna so per esempio se voi create una campagna da un dollaro è molto più facile che Amazon spendere 90 centesimi 75 centesimi o un dollaro invece che se create una campagna di 10 dollari che Amazon spenda tutti i 10 dollari per questo motivo Mark Dawson chiamava questa la strategia del 100 campagne da un dollaro sono più potenti di 10 campagne da 10 dollari ho mai provato questa strategia? la risposta è no non l'ho provata perché quella che sto utilizzando io sta funzionando abbastanza bene e perché il mio budget è intorno ai 3-5 euro al giorno non di più però se fossi interessato a aumentare la mia campagna aumentare i click della mia campagna potenziali sicuramente questa strategia di Mark Dawson sarebbe una che io utilizzerei senz'altro c'è una cosa che viene chiesta molto spesso per quanto riguarda gli Amazon Ads e una cosa importante che voi considerate che ci sono delle ragioni per cui poche persone potrebbero cliccare quegli Amazon Ads quelle campagne che avete creato e sono delle cose che voi dovete capire immediatamente se la descrizione in cui presentate il vostro libro non è fatta bene le persone non cliccheranno ovviamente se avete fatto la descrizione io mi sono risparmiato a questo passo e non ho scritto niente perché vedo che per ora sta funzionando però se voi per esempio ne siete nei Stati Uniti dovete secondo me avere un certo tipo di copy per fare in modo di attirare gli sguardi dei potenziali clienti uno dei motivi per cui potrebbero non cliccare è proprio la vostra copia è troppo debole il secondo motivo è che la vostra copertina non è buona non è professionale abbastanza non è a tema quindi magari state facendo targeting a lettori di Isaac Asimov e la vostra copertina sembra un thriller le persone non cliccheranno o un romance le persone non cliccheranno è anche importante considerare il tipo di pubblico con in cui state voi dirigendo il vostro ad e questo si traduce sia nella descrizione la copy sia nella immagine di copertina dovete stare attenti al tipo di pubblico che state cercando di catturare e se la vostra copertina la vostra descrizione non è a tema è molto difficile le persone cliccheranno e che potenzialmente comprino quella copia quindi per questo è dall'inizio che vi ho detto è molto importante che potete avere fatto l'annuncio pubblicitario migliore con le keyword che vanno direttamente alle persone che vogliono comprare il vostro tipo di libro ma una volta che le persone sono sulla vostra pagina e si vedono una copertina che non si aspettano che non gli parla del loro genere o la descrizione non gli interessa le persone se ne andranno quindi voi spendete soldi e non guadagnate niente quindi è importante fare dei test anche da quel punto di vista ancora una volta non posso parlarvi di queste cose qui perché ci vorrebbe un episodio apposito il quarto motivo il quarto motivo ancora una volta molto importante per cui potrebbero le persone non cliccare sul vostro Amazon Ads è perché non state facendo un bid che è alto abbastanza che è abbastanza alto e questo davvero non non so esattamente come descrivervi l'importanza di questa cosa qui se il vostro bid è troppo basso le persone non lo vedranno praticamente neanche Amazon non lo prende la cosa più facile da fare quando state testando è cambiare una cosa per volta e vedere se e come funziona io per esempio vi dico la mia esperienza personale le persone stavano cliccando in alcuno dei miei prodotti ma non stavano davvero comprando la prima cosa che ho cambiato è stata la descrizione la descrizione dei miei libri l'ho fatta una che è molto più accattivante perché immaginate la descrizione visto che i miei libri di questa serie il primo libro è di sei anni fa pensate quindi io l'ho scritta con le mie conoscenze di sei anni fa di self-publishing che come immaginate non erano molto alte l'ho riscritta quella copy con nuove conoscenze con sei anni di self-publishing alle mie spalle e immaginate che cosa è successo le persone cliccavano di più e le persone compravano di più una cosa ho cambiato ho visto il risultato se quella cosa non mi avesse dato i risultati probabilmente avrei cambiato altro però ho visto un cambiamento anche significativo quindi mi sono fermato lì dovete testare dovete cambiare dovete vedere cosa funziona o no quindi se i click per esempio non arrivano aumentate il bid cambiate copertina oppure la descrizione ricordate sempre l'acos non davvero ha importanza tantissimo nonostante le persone ne parlino molto specialmente se voi avete un libro che è iscritto a Kindle Unlimited io vi faccio il mio esempio la mia serie dell'ognologo è iscritta a Kindle Unlimited ed è una serie anche abbastanza lunga penso che se mettete insieme tutti i libri messiato in versione paperback la serie sia oltre 1200 1300 1500 pagine quindi è un bel mattone questo vuol dire che una persona che se legge tutta stiamo parlando di svariate migliaia di pagine ieri ho avuto per esempio è un giorno che è andato abbastanza bene ho avuto quasi 4000 pagine elette quelli sono soldi e introiti che non vanno nelle acos quindi stiamo parlando di svariati anche soldi che non vendono conteggiate da quella metrica quindi non date a quella metrica troppo interesse o troppa importanza se le persone mi stanno dicendo o se il vostro acos è meno del 70 se il vostro acos è più di 100 o 150 preoccupatevi perché qualcosa non funziona sono le altre le cose di cui dovete preoccuparvi secondo me e spero che la live di cui che ho fatto oggi vi aiuti a capire quali sono queste cose una delle ultime cose di cui mi voglio soffermare adesso è che se non avete abbastanza impressioni click e vendite non potete davvero fare delle decisioni coerenti prima di decidere io di scalare per esempio i miei amazon ads da misero euro al giorno a tre euro al giorno ho fatto dei test e ho cercato di capire quali erano le keywords che venivano cliccate di più ma che venivano anche che generavano anche più vendite solo dopo ho duplicato e triplicato il mio budget e probabilmente se le cose continuano ad andare abbastanza bene probabilmente lo contubblicherò quel mio budget però questo è una cosa importante ragazzi ha richiesto nel momento in cui sto parlando sono sei mesi che sto facendo gli amazon ads e non li ho interrotti se non per due o tre giorni quindi sei mesi di amazon ads consistenti come tutte le piattaforme anche facebook ads se voi vi date per vinti le prime tre quattro settimane anche due mesi non andate molto lontano perché io posso dirvi i primi due mesi stavo perdendo scusatemi il primo mese stavo perdendo il secondo mese sono andato più o meno in pari e poi dal terzo mese ho cominciato davvero a fare degli introiti quindi introiti vuol dire ho pagato con i proventi il costo dell'annuncio pubblicitario e ho fatto dei proventi quindi il terzo mese ha cominciato ad andarmi davvero bene se state avendo molti click ma avete poche vendite questo è una cosa che voi vi chiederete molto cos'è che non funziona qualcosa sulla vostra pagina prodotto quindi vi ho detto può essere la descrizione del vostro libro la vostra copertina e un'altra cosa importante che questo ho imparato sulla mia pelle la mancanza di recensioni o se avete recensioni troppo negative o recensioni non troppo bene buone vi faccio un caso studio questo è l'ultimo caso che vi faccio per cercare di farvi capire quanto è importante che la persona che avete fatto così tanto per fare in modo che quella persona clicchi sull'annuncio pubblicitario e vada nella vostra pagina prodotto dovete cercare di chiudere la vendita a quel punto perché altrimenti anche Amazon Ads nel lungo periodo vi dissanguerà di soldi è più difficile perché il bello è che vi prende meno soldi però comunque sia se cominciate a vedere ho perso cento cinquanta cento euro questo mese ho perso cento euro un altro mese va bene capire ma dovete anche capire cosa funziona direi nel primo mese e mezzo cercare di almeno non perdere troppi soldi e questa è una cosa che mi è successa a me avevo un prodotto avevo una sola recensione e ho cominciato a dargli degli Amazon Ads e ovviamente ho tradotto del traffico e le persone stanno cominciando a vendere ma ho avuto una recensione negativa da una persona che leggeva Thriller e che si è imbattuta nel mio Amazon Ads e questo ha diminuito ovviamente la mia start review la mia valutazione visto che avevo una sola recensione non avevo fatto i compiti a casa e non avevo messo un certo numero di recensione al mio prodotto e questo ha fatto in modo che per tipo una settimana visto che la recensione non era buona come prima la media delle recensioni non era cattiva ma non era buonissima come prima ho visto che ha influito sulle mie vendite perché in quella settimana davvero non ho venduto nulla nel momento in cui ho generato più recensioni per quella pagina prodotto ho cominciato a vedere un aumento di vendite quasi dal giorno alla notte quindi è molto importante non solo la copertina non solo la descrizione del vostro libro anche le recensioni il numero di recensioni e la media delle recensioni possono fare o disfare il vostro Amazon Ads mi sembra che abbia parlato per tre ore quasi invece oh cacchio ho parlato per un'ora e quindici minuti questa è ufficialmente la live più lunga del mio canale youtube ho visto che ci sono un bel po' di commenti vediamo un po' che cosa mi dite ragazzi Andrea per me sì se pensi posso essere utile dividi la puntata in due parti ok tu sei la prima persona ne ho bisogno di altri quattro adesso per fare quel secondo episodio in cui vi parli specificatamente di quello che ha funzionato per me Mario Gallo dice ciao ciao Mario whatever John dice stai dando degli insight davvero preziosi grazie anch'io vorrei il controllo della mia campagna anche il più possibile ok Andrea Bindella per quanto riguarda se è stato molto chiaro poi un po' di prove dovremmo farle anche noi purtroppo per fortuna Andrea sì è importante che anche tu capisca questa cosa qui ma anche tutte le persone che mi stanno ascoltando i test fare test è la cosa più importante in assoluto è quella che ho fatto io ne ho fatti diversi ho fatto keywords le ho messe in una campagna pubblicitaria ho aspettato un paio di settimane ho visto quali keywords venivano cliccate ho creato un'altra campagna con queste keywords e ho cominciato a vedere le impressioni aumentavano i click aumentavano di conseguenza le vendite aumentavano questo è l'unico modo che ho visto funzionare poi se vuoi conoscere di altre persone che hanno fatto in modo diverso assolutamente seguiteli fatemelo sapere perché voglio sapere di più e voglio imparare anche se posso implementare i loro tools questo è il modo in cui per me Michela Mitrani ha funzionato 3D Pixel chiede ciao tu consigli di fare ads per lanciare il libro quindi appena pubblicato oppure dopo aver ricevuto le prime recensioni io particolarmente do questi due tipi di consigli se siete in anglosassolandia quindi siete in un mercato grosso come in America vi consiglio di fare delle prove di Amazon Ads ancora prima che il vostro prodotto sia addirittura in vendita anche se è in preordine perché ho notato molte persone mi hanno detto che hanno fatto Amazon Ads li facevano per testare addirittura se la loro descrizione e la loro copertina funzionasse attirasse le persone giuste quindi questa è una cosa che voglio consigliarti assolutamente in Italia io non li farei Amazon Ads prima che la vostra pagina prodotto abbia una descrizione con i controfei occhi una copertina di cui voi siete fieri e qualche recensione sicuramente secondo me è importante avere queste cose per fare in modo che le persone che vanno nella vostra pagina prodotto abbiano un qualche tipo di visuale che le dica perché io penso io stesso ma anche voi come customer vanno andate in una pagina prodotto e vedete un libro che ha zero recensioni lo compro? non lo compro? se è un nome famoso forse sì però se è una persona che non l'ho mai sentito nominare io personalmente sarei molto restivo a comprarlo ovviamente se questa persona ha una copertina assolutamente spettacolare e il prezzo magari non è tanto alto e la descrizione è un point lo compro senza problemi non mi interessa il nome o il cognome se hai fatto questo esercizio vedo che mi interessa tantissimo la copertina è bellissima la descrizione è un point e magari costa 2 euro e 99 1 euro e 99 meno 0 euro e 99 meno di un caffè lo compro però la maggior parte delle volte io guardo le recensioni e penso anche molte persone che mi stanno seguendo guardano le recensioni quindi il mio consiglio 3pix sarebbe quello di aspettare avere qualche recensione e non fare l'errore che ho fatto io perché possono arrivarvi recensioni da 2 stelle a 1 stella e non potete controllare questa cosa qui quindi cercate di fare in modo di proteggere il vostro prodotto da quel punto di vista e quindi questo per quanto riguarda l'episodio di oggi se avete altre domande ho altri 5 minuti a disposizione poi devo andare per quanto riguarda invece la mia la mia settimana questo è il momento in cui vi dico esattamente che cosa ho fatto nei passati 7 giorni ho due buone notizie la prima buona notizia è che riguarda voi italiani noi italiani in realtà è che non solo ho completato il la prima storia che pubblicherò dopo 3 anni e mezzo ormai nel mercato italiano quindi in italiano ho anche dato un estratto esclusivo dei primi due capitoli ai scritti alla mia newsletter questo è uno dei perks una delle cose speciali che avete se vi iscrivete alla mia newsletter e tutto quello che dovete fare è cliccare il primo link della descrizione di questo video e sono davvero eccitato perché sto pianificando di in realtà pubblicare il primo libro non nel 2021 ma nel 2020 quindi probabilmente a dicembre e sto adesso muovendo la mia macchina di pubblicazione e promozione per cercare di almeno pubblicare un prodotto nel 2020 questa sarà se tutto va bene una novella mitologica è stata corretta già da una mezza tozzina di beta adesso sta sta venendo corretta da un'altra persona e poi si tratta ovviamente di fare una descrizione di fare una copertina ma abbiamo il primo prodotto questa è una cosa che mi fa piacere che volevo condividere con voi voi mi stare seguendo nel mio viaggio di autore indipendente e questa stessa storia sarà pubblicata anche in inglese quindi sono doppiamente desideroso di vedere come andrà a finire e la seconda cosa è che sto lavorando a quello che dovrebbe essere il mio primo libro mitologico e lo sto scrivendo in inglese e se questo libro non mi sconfigge nel senso che se riesco a scriverlo dovrei e se vedo che c'è un interesse anche in anglosassolandia vorrei pubblicarlo anche in italia quindi sarebbe un prodotto anche più robusto rispetto a delle novelle quindi sono doppiamente fomentato voglio vedere come andrà a finire per quanto riguarda le copie vendute di lord of time questa è l'ultima volta in cui vi parlerò delle copie vendute perché è una cosa che ho fatto come esercizio di trasparenza per un anno e tre mesi adesso vi tenevo informati ogni settimana sulle copie vendute di questo prodotto potete vederlo lord of time mi faccio un po' di pubblicità è un libro dark fantasy in inglese soltanto in inglese fino a questo momento ho venduto 160 copie e non ne parlerò più del numero di copie perché quello che sto pensando io e correggermi se sbaglio è che una cosa che è interessante capire nel suo primo anno per condividere statistiche per persone interessate nel mercato americano accettarsi nel mercato anglosassone però adesso il suo primo anno di vita è tramontato e ho altri prodotti nuovi che vedranno la luce del giorno e penso sarà più interessante sia più interessante magari condividere dei dati relativi a quelli magari potrei condividere dei dati relativi al mio nuovo programma di pubblicazione di novelle o novels mitologiche in Italia e in anglosassolandia fatemi sapere se potreste essere interessati è più attuale questa mi sembra una cosa specialmente perché sto pianificando di pubblicare svariate di queste cose qui all'anno quindi uno ogni due mesi almeno fatemi sapere se siete interessati i numeri gli iscritti al mio newsletter sono sempre gli stessi in anglosassolandia intorno a 1100 grazie a tutti quanti per avermi seguito ancora una volta se siete interessati che faccia un secondo episodio su Amazon Ads in cui vi spiego esattamente come ho utilizzato io questa piattaforma che cosa ho fatto e quali sono stati i miei risultati dati alla mano ho bisogno di altre 4 persone almeno me lo facciano sapere nei commenti o nella live Andrea è stato uno dell'unico per adesso e se vedo che c'è questo interesse creerò sicuramente un secondo episodio grazie a tutti per avermi seguito e vi do appuntamento al prossimo lunedì alle 8 ciao a tutti e ci vediamo ciao 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 Grazie.